Dopo aver controllato la punto bianca di Freddy, la golf della sorella Deborah e l'Apolo di Manuela Cacco, oggi la polizia scientifica ha analizzato l'Audi del camionista Ballerino. L'auto che la sera del 15 gennaio Freddy Sorgato ha utilizzato per andare a mangiare la pizza con Isabella 90 nel locale SSS di Lyon e poi guidata per la messa in scena in centro a Padova. Gli spostamenti dell'Audi sono tutti registrati dal GPS che ha confermato le tratte da Lyon di Albignasego a 90 e poi da 90 al centro di Padova. Ieri intanto la polizia scientifica è ritornata nella villetta dei Sorgato in via Sabbioni e si è concentrata sulle stanze al piano superiore. Pare che sotto il comodino della stanza da letto siano state ritrovate alcune tracce ematiche che verranno analizzate nei prossimi giorni, mentre dal garage sono stati visti uscire i tecnici della scientifica con una cariola che è stata portata via per effettuare delle perizie. Dalla prossima settimana potrebbero ripartire nuovamente le ricerche del corpo della povera Isabella. La richiesta è stata fatta dall'avvocato della famiglia 90 alla procura. Dovrebbero concentrarsi nei campi vicino alla casa dei Sorgato. Una vicina di casa nelle scorse ore ha ammesso di essersi ricordata di aver visto Freddy girovagare qualche sera prima della scomparsa di Isabella nei terreni dietro la sua abitazione.